Carissimi amici di Cuore Amico, desidero ringraziare perché la vostra vicinanza consente alla nostra missione in Libano di tenere attive le adozioni e in particolare la cucina. La scuola, perché i bambini, soprattutto quelli che arrivano da fuori, palestinesi, siriani, anche libanesi che non rilano più i mezzi economici per andare nelle scuole private e magari non vogliono andare in quelle più fondamentaliste. Ecco, la scuola per noi, sia per i ragazzi delle adozioni a distanza, ma per tutti è stato un grandissimo segno, perché la missione significa aiutare i poveri a riscoprire la presenza di Dio, che sia che tu sia povero o ricco ti dà sempre il respiro per parlare, il tempo per muoverti, per diffondere parole di amore, ma ti dà sempre anche un'intelligenza da utilizzare e questa ce l'hai sempre. E quindi quando in un clima di accoglienza, di accompagnamento, è bello vedere ragazzi che partecipano almeno per i nostri corsi e li preparano a sostenere gli esami da privatisti. E da soli, con la loro serenità, danno un messaggio che toglie davanti a tutti del paese certe paure che potessero a loro presenza innescare problemi precedenti. Quindi Dio agisce sempre nel momento presente, nel dono dell'amore, e mettere prima di tutto a frutto i doni che ci concede con la creazione, e ce li concede sempre. Vedere persone povere, sorridenti, incoraggia tutti, quantomeno nel momento presente. Si chiedono aiuti, certo in pubblicità, materiali, e a vicenda nella medesima chiesa ci incoraggiamo a essere ognuno missionari a casa propria. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396. Grazie mille. Grazie mille.